Sì, ovviamente non siamo venuti per fare una scampagnata perché ci siamo allenati il 24 ieri a Natale, siamo partiti ieri per cui ci tenevamo a ripagare questo sforzo di un calendario che sinceramente a me non piace per nulla. Però diciamo che potevamo fare molto meglio, abbiamo incontrato una squadra che aspettava e che ripartiva e purtroppo da questi nostri errori è scaturito anche il gol del vantaggio che poi è stato il gol definitivo.